Mancano due secondi e sul suono della serena, Calofa fa il canestro che ognuno vorrebbe fare. Warren per Morse, che schiaccia in faccia ad Alessandro Simeoni. Green vuole prendersi la bomba! Marcus Green! Melvin cerca il pertugio, lo trova! Una veloce! Assolutamente! Una veloce! Meno 26 piccoli lo scadere e fa! Il canestro è valido e sono altri tre! Sbaglia però, io la tiro e quindi uno contro uno di White che manda al mare a Donutti e schiaccia! Di Antelli si tuta dentro piccoli in passaggio, no look per la schiacciata di Angelo. Bello, il giro e il tiro! Guarda qui, uno contro uno, pam! Bellissima giocata di Negri! Palla Formenti, giro dall'angolo e lo mette! Un secondo e 74!